Sicuramente potremmo fare di più, è stata una partita un po' così, certo ce l'abbiamo messa tutta, ma non siamo riusciti a dare la nostra prestazione migliore. Sicuramente, lavorando a testa bassa possiamo toglierci ancora belle soddisfazioni, questo è un passo falso, si riparte da qui, ma dobbiamo cercare di evitare di fare questi passi falsi, dobbiamo avere più concentrazione durante la partita, credere più in noi stessi, cercare di far girare meglio il pallone, più veloce, visto che riusciamo a creare veramente poco e questo alla fine porta a questi risultati secondo me.